Io sono Adam, principe di Eterno, difensore dei segreti del castello di Grayskull. E questo è Grinker, il mio amico coraggioso. Poteri straordinari e favolosi mi furono donati il giorno in cui innalzai la mia spada magica gridando Per il potere di Grayskull! Amén! Potere! Da quel giorno Grinker diventò il temibile Battlekate e io diventai Keyman, l'uomo più forte dell'universo. Solo tre persone conoscono questo segreto. La nostra amica maga, Duncan, uomo armato e d'oro. Uniti difendiamo il castello di Grayskull dalle forze malefiche di Skeletron. Grazie! Grazie! Grazie!